Finisce 1-0 la partita tra Juventus e Fiorentina grazie al gol di Rabiot. Una partita veramente brutta secondo me, ma comunque dà le forti emozioni e andremo comunque ad analizzarle in questo video. Ovviamente vi do il mio bentornato e il mio benvenuto sul canale a seconda che siete già o meno iscritti e bentornati alla Casa del Calcio dove l'unica fede calcista è quella verso il calcio stesso. Vi raccomando di seguirmi nei miei progetti podcast, va a dire volti nuovi e storie di calcio che potete trovare su Spotify col podcast e polpodcast di The SunCloud e seguitevi anche su TikTok perché a volte vi metto delle chicche calcistiche magari di argomenti che non reputo così importanti da essere dedicati a un video un po' più approfondito. Ma parliamo appunto della partita. Secondo me è veramente brutta, spigolosa, imprecisa, anarchica a livello tattico totalmente sebbene la Juventus ha mostrato un pochino più di quadratura da questo punto di vista però ha giocato tanto sui nervi. Tanti eroi tecnici, tanti passaggi, il primo tempo veramente orribile quando poi insomma la Juventus è stata in vantaggio grazie al gol di Rabiot, bel cross di Maria però anche in un'azione un po' estemporanea, un gol un po' roccambolesco perché poi Rabiot l'ha presa di testa Terracciano ha rinviato la palla poco dentro la linea di porta tant'è che appunto è intervenuto il loro gel l'arbitro che ha vibrato quindi la golla in technology però generalmente è una partita che assolutamente non mi è piaciuta. Due squadre che per motivi diversi ma sentivano la pressione appunto in questa partita. La Juventus sempre quel discorso della penetrazione di meno 15, adesso insomma raggiunti 29 punti in classifica, uno sotto il Torino e se non ero anche l'Udinese per la Juventus. Dal punto di vista Fiorentina si può fare un po' critica alla situazione perché se domani il Verona dovesse vincere la Fiorentina si troverebbe a 24 punti con un Verona 17 quindi soltanto un più 7 per i Viola dalla zona di recessione quindi non si sta mettendo benissimo la classifica della Viola. Una Juventus che scende in campo un po' sorpresa perché Allegri schiera questa sorta di 3421-343 e un po' all'inizio mi aveva stupito questa conformazione di centrocampo a 4 però fondamentalmente a parte i titolari Locatelli e Rabiot in panchina la Juventus era soltanto le due riserve quindi Paredes e Fagioli e poi aveva Berrancea. Avendo 5 centrocampisti evidentemente Allegri non si è fidato a metterne 3 titolari e tenesse soltanto 2 in panchina. Comunque di base ha inflitto negativamente la filosofia di gioco perché nel primo tempo si è visto soprattutto i marieri piegare la sua tre quarti campo è veramente secondo me un abominio calcistico idem quando insomma si vede chiesa molto indietro ecco ovviamente una difesa abbastanza strecciabile perché comunque vi era Alexandro come braccetto di sinistra quindi la difesa sulla destra vi era De Sciglio quindi quando magari ritrava De Sciglio si formava questa sorta di linea 4 con un Cossic un po' più avanzato gli eventi più accentato a fare una sorta di finta mezzala e questo 2-1 oppure tre attaccanti in linea. Una Fiorentina che era senza Igor che ha giocato con Ragneri che era senza Mandragora che secondo me è comunque un elemento importante e italiano ha deciso di schierarsi senza centro avanti quindi con Quame che si sa che è una punta molto tipica una punta di corsa molto automobile che svaria sotto fronte attacco ma ripeto fondamentalmente è stata una partita brutta nel secondo tempo è stata un po' più emozionante ma emozioni grazie anche due gol annullati ma semplicemente per la forza dei nervi non per la qualità del gioco per la forza dei nervi. Bel passaggio di Locatelli che ha imbeccato Vlaovic spero che cambi la regola di questo fuorigioco onestamente perché comunque il gol di Vlaovic secondo me è stato un abominio annullarlo. Di contro quello della Fiorentina idem nel senso che comunque Ragneri era forse di un tallone avanti a diciamo in fuorigioco se non ero Danilo lo teneva in gioco però a mio avviso c'era anche un mezzo falletto quindi è stato un un gol un po' sporco a dire del fuorigioco ma ripeto un Vlaovic che aveva soltanto la testa tra virgolette al di là della testa dell'avversario però le mani erano pari e ripeto è al vaglio degli organismi competenti il fatto di cambiare questa regola di fuorigioco perché si vedrebbe poi quando dovesse entrare in funzione diciamo in vigore questa regola si vedrebbe il lato negativo a livello fotografico di questa regola attuale del fuorigioco vuol dire che basterà avere una parte con la quale si può segnare in linea con l'avversario per far sì che il gol sia regolare una sorta di ammodernamento della famosa luce tra i corpi da un certo punto di vista però è vero anche che se quel tallone è in gioco però vi è un 40 centimetri di luce tra i corpi alla fine è sempre uguale il gol quindi ritiro anche quello che ho detto perché insomma si scade sempre o nel troppo formalismo o nel troppo nel troppo perbenismo diciamo così perché è vero anche che se tu hai un tallone alla pari con chi ti sta dietro che vuol dire con la sua punta del piede tu comunque trai vantaggio da quella posizione quindi o si è troppo sfiscali o si è troppo permissivi vabbè staremo a vedere ma ripeto uno juventus che aveva costruito anche aveva venuto in gol anche con Vlaovic però ripeto sia il gol annullato a Vlaovic che il gol annullato poi a Castrovilli per la posizione di fuorigioco di Ranieri sono appunto emozioni dettate dalla forza di nervi dall'anarchia perché poi l'italiano ha sbroccato ha messo dentro Jovic ha messo dentro Saponara ha messo dentro Cabral ha messo dentro chi più era più ne metta quindi insomma non mi è piaciuta la partita non mi è piaciuta è stata molto importante a livello di classifica sia per la Fiorentina che per la Juventus in positivo e in negativo però ragazzi veramente brutta 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 che partita che dal punto di vista Juventus posso anche capirla perché ora Juventus deve mettere veramente fino in cascina l'importante per lei era granellare punti dal punto di vista di Fiorentina un gioco veramente declassante un gioco veramente brutto un italiano che sembra aver perso il pugno della situazione non lo so veramente stagione negativissima ad ora per la Fiorentina e stiamo a vedere quello che faranno ma attenzione al Verona perché ripeto i punti per la zona di recessione potrebbero accorciarsi quindi fare anche attenzione a questo secondo me la Fiorentina si salverà proprio largamente ma semplicemente per tra virgolette di merito altrui nel senso che la Fiorentina ha una rosa superiore a Cremonese, a Verona, a Spezia e questi pugli stanno dietro ma ripeto stiamo attenti stiamo attenti perché potrebbe anche essere aggiunta dalla Serenitana quindi insomma i punti da analizzare sono tanti fatemi sapere ovviamente qui sotto cosa pensate ditemi anche la vostra lettura della partita che a me ripeto non è piaciuta per niente nervosa forza inervi, imprecisa, tanti errori secondo me non è stata una partita di calcio vi rimane un abbraccione e ciao al prossimo video ciao ragazzi